Amici un saluto da Guido Bagat, parliamo di basket, infatti è finita la fase preliminare dell'Eurobasket 2022, ci sono le 16, un po' troppe, squadre che hanno passato il turno e vanno agli ottavi di finale, che si giocheranno da domani sabato a domenica a Berlino, dove ci sarà poi anche il resto del torneo fino ad arrivare a domenica prossima con la finale. L'Italia per un gioco di cifre è arrivata quarta nel girone, il peggio possibile, anche perché era un girone con Gran Bretagna, Estonia, era impossibile arrivare più di quarti nel senso basso della classifica, lì sarebbe stata una caporetto. Perché arrivare quarti e una sciagura? Perché andiamo a incrociare un girone che sembrava facile, a parte la squadra che lo avrebbe e lo ha vinto, ovvero la Serbia, ed invece diventa difficilissimo perché da quarti andiamo proprio a prendere i serbi. Le altre erano squadre abbordabilissime, noi invece ci siamo fatti veramente male da soli con la sconfitta inopinata con l'Ucraina e adesso ne paghiamo le conseguenze. Intendiamoci con le squadre slave può succedere di tutto, l'abbiamo visto l'anno scorso per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo, quella partita secca a Belgrado contro la Serbia che dovevamo perdere tanti a pochi e invece abbiamo vinto tanti a pochi. Però onestamente in questa situazione mi sembra davvero impossibile. La Serbia ha uno squadrone pur avendo lasciato a casa Teodosic, pur non avendo Bogdanovic, in mezzo è una squadra onestamente impossibile da superare. Questo signore, Nicola Jokic, due volte MVP dell'NBA, quindi il miglior giocatore al mondo, gioca in mezzo alla Serbia e già in forma come stesse giocando la stagione NBA ed è contornato da giocatori di stazza, per quanto vogliamo parlare dell'area ed intorni, tipo Milutinovic, avessimo noi solo la metà di uno di questi due basterebbe. L'Italia ha il problema di non avere un centro e non l'avrebbe avuto nemmeno con Gallinari sano perché far giocare in mezzo il Gallo è praticamente una forzatura, però almeno qualcuno che poteva giocare lì in mezzo oltre Melli fuori posizione ma con la costezione di giocare a punto 5 ce l'avremmo avuto. Così invece andiamo allo sbaraglio con tra virgolette i poveri Melli, Biliga e chissà magari tessitori che dovranno prendersi cura di questo signore. Giocatore fantastico, pensate che ha battuto in questi anni come corsa l'MVP a Teta Kumpo che lo era stato prima di lui, un giocatore come Jokic può giocare se vogliamo in quattro posizioni, non lo fa ne gioca due o tre, però è talmente d'utile che può fare veramente tutto il contrario di tutto e per Pozzecco e i suoi vici in particolare recalcati sono ore di passione queste per cercare in qualche modo di imbrigliare questo super talento che vedremo contro l'Italia domenica alle 18.00. Le previsioni sono abbastanza facili però siccome nella palacanestro e nello sport in generale ma nel basket in particolare può succedere di tutto, teniamo una porticina, una finestrella tipo quella del calendario dell'avvento di Natale aperta e stiamo a vedere.